a pomeriggio dal vostro nino juventus pre partita di juventus lione gara che vale una stagione con lo scudetto ormai conquistato adesso l'obiettivo che tanti dicono obiettivo principale lo scudetto assolutamente sì perché la juventus nasce per conquistare ogni anno il titolo nazionale e vincere lo scudetto però ragazzi siamo arrivati al punto di puntare alla coppa dei campioni stasera abbiamo una partita dove dobbiamo ribaltare 1 a 0 dell'andata ma abbiamo i giocatori e i mezzi per riuscirci non sottovalutiamo questo lione che viene da una prestazione ottima contro il pari st germain che è stato eliminato solo ai calci di rigore nella finale di coppa di francia quindi ragazzi stasera una partita da prendere con le pinze con le pinze quindi ragazzi carichi al punto giusto tensione al punto giusto sappiamo che giocare a porte chiuse senza tifosi non immaginiamoci una boggia come juventus atletico madrid spero solamente che cristiano ronaldo che il re di questa competizione possa dare energie positive e al punto giusto a tutti i calciatori che questa sera sarri faccia una formazione e che soprattutto legga la partita in modo corretto che dia che sia stato bravo in questi giorni a dare la carica che serve anche se sapete come la vedo su sarri ma stasera raga conta vincere conta fare il risultato conta fare il risultato stasera dobbiamo ribaltare una zero risultato fattibile abbiamo la pecca che prendiamo sempre gol purtroppo dobbiamo cercare da stasera di cambiare di invertire questa rotta però però attenzione ragazzi c'è un però giunge una nuova bomba su pep guardiola alla juventus sapete che io l'anno scorso me ne ho parlato di tutto tutto l'estate scorso prima che arrivavo sali perché mi arrivavano voci su guardiola io il credo in queste voci che mi arrivavano è che clamorosamente mi sono ripresi sono riprese ad arrivare si parla di un guardiola con scadenza di contratto nel 2021 e prossima panchina proprio per lo spagnolo sarebbe quella della juventus idea guardiola che la juventus c'è stata e non è mai tramontata quindi attenzione a questa bomba che mi sta arrivando e che continuano arrivare voci dall'inghilterra di un pep guardiola prossimo allenatore della juventus so che magari oggi è il giorno sbagliato per dare un annuncio del genere perché come ripeto c'è una gara di champions league da andare a ribaltare c'è un 1 a 0 di rimontare però ragazzi ci tenevo a fare questo video e dirvi che continuano ad arrivarmi voci su pep guardiola alla juventus per la prossima stagione ossia al contatto in scadenza in maggio 2001 pep guardiola con manchester city quindi ragazzi occhio occhio ancora aperto perché il sogno guardiola non è svanito e vivo e più che mai un abbraccio a tutti speriamo bene per questa sera ragazzi 11 leoni noi vogliamo 11 leoni affidiamoci al re su 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 su